E' stata pubblicata la relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla DIA Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2023 presentata dal Ministro dell'Interno e la relativa analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso. L'elaborato rispetto alle versioni precedenti è stato profondamente innovato nella struttura al fine di renderlo maggiormente fruibile alla lettura e consentire una più immediata e veloce consultazione. L'analisi degli elementi investigativi estratti dal patrimonio informativo della DIA restituisce uno scenario della criminalità organizzata italiana che conferma come le organizzazioni mafiose, da tempo avviate a un processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti socio-economici e alla vantaggiosa penetrazione dei settori imprenditoriali, abbiano implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziose infiltrazioni e con azioni corruttive. In questo contesto l'uso della tecnologia assume un ruolo determinante per l'attività illecita delle organizzazioni criminali che con sempre e maggiore frequenza utilizzano i sistemi di comunicazione e crittografata, le molteplici applicazioni di messaggistica istantanea, in particolare i social. Dagli esiti delle indagini concluse nel semestre è emerso come la principale fonte di reddito dei cartelli criminali e del livello transnazionale, continua a essere il traffico di sostanze stupefacenti, gestito mediante nuovi modelli organizzativi, capace di sfruttare molto il web, soprattutto nella fase dello smercio. A livello strategico questa propensione internazionale dei sodalizi si estrinseca con la capacità di costringere a rapporti maggiori narcotrafficanti stranieri al fine di attivare nuovi canali di approvvigionamento dei carichi di stupefacente, significativi anche segnali dell'insalimento delle consorterie nella gestione degli enti pubblici che altre il buon andamento della pubblica amministrazione. A riguardo non sono mancati, sebbene limitati i precisari del meridione, anche nel semestre, il rassegno ai provvedimenti di scioglimento per infiltrazione mafiosa di tre amministrazioni comunali nella nostra regione, due in Calabria, una in Puglia, a dimostrazione di come sia ancora il contesto territoriale del meridione a essere maggiormente permeabile. Nella provincia di Agrigento si conferma la coesistenza di Cosa Nostra e della Stilla, due realtà mafiose storicamente radicate nel nostro territorio, sempre pronte all'individuazione e spartizione delle attività criminali da perpetrare sul territorio. Cosa Nostra Grigentina, basata sulla storica suddivisione mandamentale, che risulterebbero sette, Agrigento, Burgio, Santa Margherita del Belice, Santa Elisabetta, Cianciana, Canicattie e Palma di Monteghiaro, nel quale ambito opererebbero 42 famiglie. E ancora ancorata alle tradizionali regole mafiose, continua a essere importante rivestire un ruolo di supremazia sul territorio in connessione con le omologhe articolazioni mafiose vicine al Catanese, al Nisseno, al Palermitano, al Trapanese e a Oltreoceano.